Angelo Jasparro, innanzitutto amico da molti anni, ma persona, personalità molto sfaccettata e molto dentro alle questioni musicali, in senso stretto, ma anche tecniche, come credo molti dei nostri ascoltatori già conosceranno. Quindi cerchiamo in questa, che presumo sarà già una lunga intervista, visto che ci sono tante cose di cui vogliamo parlare, di mettere ordine. Da dove parte Angelo Jasparro, nel senso il tuo rapporto con la musica e la musica riprodotta? Intanto cominciamo con un cordiale benvenuto a tutti coloro che ci seguono. Parte da molto lontano, uno potrebbe dire, no, non vorrei cominciare da quando, e invece se dobbiamo dire a dove si parte, diciamo a dove si comincia. Si comincia da piccoli, come al solito, con mangiadischi, i dischi della mamma, le copertine di Sylvie Vartan, della quale ero pazzamente innamorato, perché era veramente una bella donna. E da lì poi le fiabbe sonore, che ti porta a casa papà tutte le settimane, quando ci sono le varie uscite, e un po' per volta. Poi sono passato a Musica che piaceva a me, alle mie scelte. Avevo nove anni, mi ricordo che in un hotel in Liguria, ad Arma di Taggia, c'era un compressino che doveva suonare una serata, e io ho visto montare una batteria, allora erano solo acustiche evidentemente, mi sono innamorato di quello strumento, e quindi a nove anni ho cominciato un po' a suonare, a suonicchiare, poi ho cominciato a prendere anche lezioni di musica, e nel frattempo ovviamente parallelamente c'era l'ascolto della musica. Il mio primo vinile è stato The Dark Side of the Moon, The Pink Floyd, il primo vinile in assoluto che ho acquistato. L'impianto fortunatamente ce l'avevo già a casa, avevo già un discreto impianto perché allora era di moda, quindi papà l'aveva comprato, l'aveva messo in sala, alla fine lo usavo solo io, però lo usavo. E quindi anche se allora magari i diffusori si mettevano sopra la libreria, non importa, però si ascoltava musica meglio che da un mangiadischi o da un forno valigia, da quello che usava allora. E quindi allora è cominciata anche la mia passione per l'audio, ho cominciato ad acquistare le riviste, a girare per negozi, e allora, stiamo parlando di 40-45 anni fa, di negozi a Milano, c'erano tanti. E quindi si ascoltava, si ascoltava in continuazione, ricordo quando si entrava magari a Auditorium 11, che era forse il negozio più chic che ci fosse a Milano, tu entravi e sembrava un tempio per noi con questi enormi rec pieni di finaloni americani. Insomma è nata una passione che da allora non si è mai più spenta, anche se ho avuto delle pause, perché poi ho vissuto un po' di anni all'estero e quindi ho un po' trascurato questa cosa qua. La musica ovviamente non l'ho mai trascurata, quindi anche con i famosi boombox all'americana l'ascoltavo sempre, a seconda di quello che potevo fare e come potevo farlo. Sì, perché il tuo estero era dall'altro lato dell'oceano, giusto? Il mio estero era in Sud America, era bello scomodo, quindi non è che ti portavi l'impianto così in aereo. Però, ripeto, la musica per me è sempre stata, io mi ricordo quando venivo qua in vacanza una volta all'anno, mi registravo tutte le cassette dei miei dischi e poi me le portavo in Venezuela e me le ascoltavo là, le ascoltavo in macchina e quindi la musica ovviamente è una passione che non può mai finire. L'audio per un certo numero di anni ha avuto una pausa per forza di cose e poi sono quelle passioni che anche se restano soppite per qualche anno poi tornano sempre fuori, tornano sempre a gare e quindi poi ho ricominciato. Tu non nasci come professionista in senso stretto del mondo dell'audio, ma poi lo diventi diciamo a due livelli diversi. Prima non ancora professionista ma professionale nel tuo introdurti nel mondo della recensione tecnica, tu hai scritto per blog, hai scritto per riviste importanti, una in particolare e poi tuttora hai una tua autorevole spazio web dove proponi queste recensioni e dico professionale non professionista perché non era la tua fonte di guadagno principale e poi però di recente sei arrivato anche ad essere fra virgolette professionista, cioè a mettere in piedi un vero e proprio mercato di import in questo caso, di questa ditta prestigiosa di diffusori molto interessanti di cui casomai parleremo dopo. Ecco, questo step, questo passaggio, questa spinta sempre di più mantenendo il tuo lavoro che adesso qui non citiamo perché evidentemente non c'entra nulla con l'intervista però tu hai un lavoro da tanti anni ben differente da questo. Ecco, però sei arrivato ad affiancarne un altro, mettiamola così. Ecco, quando scatta questa molla? E come? La molla è scattata intanto già da ragazzo, quando a 14-15 anni compravi suono, stereo play e vedevi questi recensori che provavano cose bellissime che tu potevi solo sognare e che ne scrivevano, ne scrivevano spesso anche bene. Per me erano dei miti irraggiungibili, un po' come i grandi artisti che vedi in televisione. Poi la cosa è rimasta lì, è morta lì. Io mi ricordo per esempio che quando ero in Venezuela avevo l'abbonamento ad Audio Review, per cui tutti i mesi mi arrivava dall'Italia per via aerea, arrivavo in Venezuela e io lo leggevo regolarmente. Tornato in Italia mi sposo, sistemo il mio impiantino nella casa nuova, eccetera, eccetera, senza particolari bellità. Finché parte internet e parte sul serio e comincia a prendere piede, si parla ancora dei modem a 56k. Fini anni 90 per localizzare. Esatto, esatto. Casualmente trovo un gruppo che parla di Hi-Fi, di audio, che poi era quello di TNT Audio di Lucio Caledu, che è ancora in giro ed è un amico tra l'altro. E li conosco delle persone, conosco virtualmente ovviamente, tra le quali il signor Bebo Moroni, che insomma adesso lo nominiamo, sappiamo già tutti chi è, inutile presentarlo. E facciamo questa conoscenza virtuale per qualche anno, fino a che Bebo Moroni decide di aprire la sua Videoify, rivista online. Nel momento in cui la sta organizzando, tra le altre persone alle quali ha chiesto di collaborare con lui, c'ero io. E quindi io ovviamente, potete immaginarlo, ho dato subito la mia disponibilità. Dopo poco tempo ci siamo visti, allora c'era ancora di Top Audio, ci siamo visti un Top Audio e abbiamo stretto un accordo. Mi ricordo c'era Igor Zamberlan, c'era Fabio Cottatellucci, insomma un po' di collaboratori dell'epoca. E abbiamo cominciato a lavorare. E quindi così sono entrato un po' per caso nel giro dell'audio. E sono rimasto in Videoify per circa 4-5 anni. Poi sono stato chiamato, grazie agli amici Benedetti, Marco Benedetti, Matarazzo, sono stato chiamato in Audio Review, che per me era la rivista più prestigiosa che ci fosse allora, secondo me lo è anche adesso, senza niente togliere dagli altri evidentemente. E quindi anche lì per me è stato un salto di qualità notevole, a parte che da quel momento era scattato professionismo, nel senso che prima scrivevo gratis e poi qualche cosa hanno cominciato a pagarmi. Da allora sono diventato professionista, ho fatto dei servizi da Las Vegas, dal famoso CES, insomma ho cominciato a muovere seriamente in questo giro, ho provato un sacco di cose, ho avuto tante soddisfazioni, fino a che poi, dopo anche lì circa 4-5 anni, le note vicende di Audio Review, che adesso non stiamo a rivangare, mi hanno fatto un po' disamorare di questo tipo di giro e mi sono aperto una mia rivista online, che si chiama audioattivity.com, con la quale tuttora continuo, qui si sta parlando, allora se vogliamo fare una cronologia, diciamo che Videoify, io sono entrato nel 2002, perciò sono quasi 20 anni, mentre Audioattivity è stata aperta nel 2012, quindi sono quasi dieci anni che io lavoro con la mia Audioattivity. Una cosa tira l'altra, sei in giro per fiere, eccetera, un giorno a Monaco di Baviera, durante il famoso Monaco Iend, ho trovato un marchio di diffusori polacco, che mi è piaciuto in modo particolare, non è che fossi tanto attirato dall'idea di importare, io non ho mai pensato di mettermi a fare questo lavoro professionalmente. Mi sono seduto in questa stanza, semplicemente perché lo stanco di stare in piedi, ho sentito questi diffusori da 7-800 euro al paio da pavimento piccolini, li ho sentiti suonare bene e non volevo più uscire da questa stanza. Dopo una mezz'oretta nella quale mi sono fatto mettere un po' di rischi che conoscevo, sono uscito, ho parlato con il responsabile commerciale che mi ha detto che non avevano distributori per l'Italia e lì è cominciata la mia avventura con Piron Audio e i loro diffusori, che tuttora continua, va per la sua strada, penso che loro siano contenti di me e io sono contento di loro. Mi sembra un percorso evolutivo, quasi naturale, nell'ambito di una passione, però torniamo nello specifico all'audiofilo che ovviamente è in te come è in me, come è in tutti gli appassionati veri. Quindi adesso non stiamo a fare il percorso evolutivo del tuo impianto perché se no non basterebbe probabilmente due settimane di racconti, ma concentriamoci invece sul tuo impianto di oggi che ha una caratteristica a me evidentemente molto cara, cioè il fatto che tu usi come diffusori un prodotto tipicamente, strettamente, marcatamente professionale, non solo professionale, ma un prodotto del professionale storico, quello che è stato per tanti anni, per alcuni dei più importanti studi del mondo, un riferimento assoluto, che sono le 4450, 4350B, mischiato con un front-end invece squisitamente audiofilo. E allora parliamo un po' di questa interazione di questi due mondi, cioè del front-end audiofilo e del punto invece d'ascolto finale. Allora le 4350 sono un'anomania, se vogliamo dirlo tra virgolette, nel senso che il mio impianto è sempre stato impostato sul discorso, a me non piace tanto la parola audiofilo perché a volte sembra diventare quasi dispregiativa. Settaria, no, settaria. Settaria, forse sì. Comunque, vabbè, io avevo degli atti diffusori o dell'MBL 101D che sono diffusori forse tra i migliori dal punto di vista strettamente audiofilo. Non che mi mancasse molto con quei diffusori, se non forse un pochino più di dinamica perché quelli hanno un sistema un po' particolare di funzionare, più di tanto non riuscivano a fare. In un lungo articolo che avevo scritto a suo tempo per audio review da sette pagine, avevo raccontato del ritrovamento di queste JBL 4350B. Non le ho comprate, le ho trovate un mio amico che era portiere in uno stabile in centro a Milano, le aveva lui in cantina perché le avevano regalate da uno studio di stazione di smesso a Milano. Un giorno eravamo a pranzo… Quindi in condizioni immagino non buone. La faccio breve perché se no facciamo sette pagine di articolo anche qua. Eravamo a pranzo e mi dice, guarda, ho due cassoni grossi giù in cantina da farti vedere, magari ti interessano o te li vieni a prendere. Andiamo a vederli ed erano queste 4350, una delle quali però mancava di quasi tutti gli attoparlanti, salvo il driver a compressione del medio alto che poi è quello più importante, o meglio, più difficile da reperire diciamo. E quindi prendo il mio furgone, vado a ritirare, me le porto a casa e dico, un po' per volta le sistemerò. Me le sono presa, pensavo poi di venderle una volta sistemate. Me le sono presa comoda, ci ho messo due anni, anche perché trovare i woofer, i woofer li ho trovati in Italia, il medio basso l'ho trovato negli Stati Uniti, il super twitter l'ho trovato in Olanda, ovviamente ho compratto una coppia di tutti perché così potevo avere qualcosa di ricambio. Alla fine, quando riesco ad avere tutti i componenti, assemblo il diffusore che mancava gli altoparlanti, lo ascolto per vedere se funziona tutto e sono rimasto di sasso. Ho attaccato un vecchio Marans multicanale che valeva poco in affetti di suo, dal punto di vista sonoro. Mi sono precipitato a portare anche l'altodiffusore a metterlo insieme, li ho ascoltati in un capannone di 800 metri quadri perché non me li sono portati a casa, sono casse a 120 kg l'uno, abbastanza faticoso il lavoro. Le ho ascoltate e non riuscivo a credere alle mie orecchie. Ero anch'io dell'idea che fossero casse nel giostraio, parliamoci chiaro, che poi è il comune sentire, diciamo, tra gli audiofili. Con tutto il rispetto per i giostrai, che salutiamo caramente. Che ascoltano benissimo e a pressioni sonore che normalmente l'audiofito si scorta, non perché non possa, cioè non perché non voglia, ma perché non ce la fa l'impianto. E quindi ascolto questi diffusori, comincio a ascoltare anche musica barocca, perché è vero, per il rock sappiamo tutti che, e sento le voci uscire bene. Telefono al mio amico Domenico Pizzamiglio, che poi è diventato anche mio collega e il mio collaboratore in audio review, scusa, in audio activity, lo chiamo, lui è un cantante barocco, per cui conosce bene le voci, anche lui le sente e ci rimane di sasso. A quel punto me le sono portate nella mia sala d'ascolto, ho sfrattato le NBL che mi sono vendute e mi sono ottenuto queste. Quindi loro sono sempre state amplificate in modo, diciamo, se vogliamo, semiprofessionale, perché allora avevo dei Bryston 7B, che erano macchine che venivano da professionale, ma dedicate all'audio casalingo. E da allora quelle casse lì non se ne sono più andate e ho l'impressione che non se ne andranno mai più. A fronte invece di una continua rotazione di quello che c'è prima? Allora, continua dal punto di vista audiofilo? Devo dire no, perché per fortuna non sono uno che cambia spesso, quindi i miei vecchi Bryston 7B sono stati sostituiti a seguito poi di una recensione dagli ultimi Bryston usciti, ma avevano 15 anni di vita, per cui non è... Beh, ricordiamo appunto al mondo degli appassionati audiophile che Bryston è una delle più prestigiose ditte nell'ambito professionale e addirittura è una ditta, questo lo dico io, ma senz'altro lo sai, che ha per dire fra virgolette l'appalto di curare le amplificazioni interne ed esterne dei diffusori PMC, cioè la PMC, prestigiosa ditta inglese del professionale, a un certo punto ha detto, signori Bryston, curate voi la nostra personale amplificazione. Bryston fa degli amplificatori nati e concepiti sulla PMC, quindi sono una ditta con esperienza, eccetera, quindi prestigiosa. Sì, sì, infatti io mi sono trovato benissimo con loro e li ho tenuti per un bel po', anche il mio giradischi, per esempio, acquistato tra l'altro usato, col braccio Graham, sarà 15 anni che è in casa mia, quindi non sono uno che cambia spesso, il lettore Super Audio CD, uno Yamaha CDS3000, preso quando è uscito, anche lì a seguito di una recensione, mi è piaciuto, me lo sono comprato, però anche quello c'è qualche annetto sulle spalle, anzi adesso non lo fanno neanche più, quindi non sono uno che cambia spesso, anche perché quando arrivi a certi livelli, trovare qualcosa che davvero vada meglio è, numero uno, difficile, numero due, molto costoso. A proposito, qui ti volevo tirare per parlare dell'ultimo arrivo che rispecchia perfettamente questa... L'ultimo arrivo è una vera follia, nel senso che conoscevo di nome Audionet, che è un'azienda tedesca che fa amplificazioni, ero stato, qualche mese fa sono stato a Berlino e ho fatto un servizio da quell'azienda, ma il suono delle loro macchine, francamente, il nome li precedeva, ma io non conoscevo il suono delle loro macchine, ho ascoltato qualcosa là in un'azienda da loro a Berlino, ci sono anche le foto, poi su Audioattivity è stato pubblicato tutto il servizio, però malgrado fossero i pre-finali top di gamma, che costano intorno ai 110 mila euro, il trittico, erano collegati a delle piccole die in audio, perciò non si poteva sinceramente verificare quale fosse davvero il loro potenziale sonoro. un giorno mi chiama il distributore e mi dice guardo ho qui l'Humboldt, che è il loro integrato top di gamma, ho qui un demo, vorrei fartelo ascoltare e magari mi scrivi una recensione. Un po' perplesso perché pesa 61 kg il giocattolino, affascinato però dalla costruzione, dalle foto che ho visto, degli interni eccetera, delle foto che ho scattato io tra l'altro, me lo sono fatto portare a casa. Come ho scritto sulla recensione, però lo riepilogo velocemente perché non tutti lo vanno letta, io normalmente quando comincio a scaldare un diffusore, ho tradizionalmente, più per un discorso scalamatico che altro, metto un disco degli Intilimani. che mi piace da quando ero ragazzino, è una raccolta, il primo brano d'altura, quella che comincia col fratto di panno, col fratto andino, ma ripeto, l'ho messo per far scaldare l'impianto intanto che ero in giro per la sala. Dopo dieci secondi il suono che sento mi inchioda sulla poltrona e non mi sono più mosso e da lì ho detto questo amplificatore qui prima o poi dovrà essere mio. Poi ho ascoltato decine e decine e decine di dischi, di CD, di di vinili, perché ovviamente per la recensione poi bisogna fare una cosa un po' completa. Ho chiamato gente che di audio se ne frega altamente, è venuto lì a sentire la differenza fra quello che avevo, che ripeto non è che fosse poi così malvagio, e questo e hanno capito tutti che si giocava assolutamente in un altro campionato. E quindi poi in qualche modo mi sono messo d'accordo, invece che Silver che era quello in prova, l'ho fatto arrivare uno nero, ho aspettato due mesi perché le consegne, questi stanno vendendo bene, e adesso ho in casa questo amplificatore qui che vale veramente tanto. E a spizzichi e bocconi siamo arrivati a descrivere dalle sorgenti all'attuale amplificazione i diffusori. Una domanda, domanda delle 100 pistole, riguarda uno dei temi caldi, forse il tema più caldo dei nostri giorni, ovvero il tuo rapporto con la cosiddetta musica liquida. Confronto, io ti seguo su Facebook e vedo che quotidianamente tu, fra virgolette, giochi e quando dici sto giocando metti sempre un CD, un super audio CD, un vinile. In effetti io scrivo now playing, però Facebook traduce che sto giocando. Esatto, esatto, ma mi piace quest'idea. E però ci sono sempre dei supporti fisici, quindi come ti rapporti fra il supporto fisico, che evidentemente fa parte del nostro DNA per motivi anagrafici, e invece questa nuova frontiera che è attualità, non più futuro evidentemente, della musica liquida? Ben conscio degli strali che mi attirerò, mi ci rapporto malissimo, nel senso che per il mio lavoro io sono ad una scrivania dietro un computer 8, 9, qualche volta anche 10 ore al giorno. L'idea di avere un computer, un tablet in mano, anche nella mia sala da musica, sinceramente non mi attira. Ho fatto prove, anche perché quando mi arrivano da recensi di DAC, ovviamente devo attaccare il computer. Dal punto di vista qualitativo niente da dire, perché è ovvio che un file ad alta risoluzione, diciamo, da 24,88 in su, perché poi alla fine secondo me lo standard minimo dell'alta risoluzione è 24,88, 24,96. Oltre si sente sì e no, francamente non saprei neanche io dire, però decisamente ci avviciniamo ai livelli del vinile che secondo me è quello che alla fine poi suona da riferimento, mentre il CD solito a 16,44 purtroppo ha dei notevoli problemi che restano e che nessuno potrà mai togliere. Quindi non posso parlare male della musica liquida, è utile, è comoda, è una fruizione che a me spaventa un po' in certi casi perché conosco tanti odiofili, vedo che si scambiano gli hard disk da un terabyte come se fossero figurine dei calciatori, questo te lo do, intanto si rubano tutti la musica a man bassa e questa è una cosa che io odio, perché è vero che la musica non è la mia professione, anche se faccio un po' anche il musicista a tempo perso, però conosco tanti musicisti che hanno bisogno di vivere con la musica, quindi il furto della musica per me è una cosa gravissima, è come andare al supermercato e rubarsi la mela, è la stessa cosa. Purtroppo non viene punito e mi rendo conto che sia difficilmente controllabile questo tipo di mercato, quindi questo è il primo problema. Il secondo problema è che vedo che chi ha in mano questi tablet con la musica continua a saltabeccare da un brano all'altro, da un artista all'altro e praticamente non riesce neanche a finire il pezzo, perché intanto che sta ascoltando quel brano sta già pensando a cosa mettere dopo e questa sinceramente è una fruizione della musica che dal punto di vista di un dinosauro come me che si siede e al massimo si alza quando è finita la facciata del viniere o quando è finito l'intero CD, no io non ce la faccio, mi dispiace, però voglio dire qualitativamente non ho niente da obiettare, posso invece obiettare sull'impazzimento di quelli che non riescono mai a finire di fare il settaggio di un computer per ascoltare al meglio, secondo quello che dicono loro. Quindi c'è gente che mette tre computer in serie per cercare di ascoltare bene, gente che tocca Windows, vogliono magari usare Windows XP perché c'è dei driver diversi, perché il Windows 10 non va bene e rovina il suono, io sinceramente sono uno di quelli che vuole sedersi, ha scelto il suo apparecchio, gli piace per come suona e così finisce, non posso stare ogni quarto d'ora a preoccuparmi se il mio computer sta suonando al massimo le sue possibilità, non lo voglio fare, mi rifiuto. Tu l'hai detto e io non posso che sottoscriverlo, anche se evidentemente per il mio lavoro la mia familiarità col mondo della liquida è ormai una simbiosi perfetta, però tutte le problematiche che tu stai delineando io non posso che confermarle, come quantomeno rischio latente, soprattutto da parte di un appassionato che sappiamo giustamente peraltro a essere particolarmente attento ai dettagli, a questa ricerca dell'ottimizzazione, che però, ripeto, se non ci si riesce ad astrarre in qualche modo finisce per dare un'idea distorta della realtà, cioè un lungo giro di parole per dire la nuance che magari sicuramente c'è, viene ingigantita come un problema finale e determinante, è un po' il rischio delle estremizzazioni. Non l'hai detto neanche che c'è sempre un miglioramento? No, sì, ma mettiamo anche che ci sia, c'è sempre questo rischio e non cito l'argomento e sai a quale tema del fine tuning sto pensando, non li nominiamo nemmeno quegli oggetti lì. No, facciamo tutta di niente. Però, insomma, ci siamo capiti. Diciamo che sono un mare necessario e bisogna cercare di ridurre l'influenza di questo mare necessario il più possibile. Esatto, ecco. Bene, musicista, hai accennato adesso, l'hai accennato prima, adesso parliamone, batterista, quindi, in modo particolare. Ti farò una domanda atipica. Esiste, e se esiste, qual è una registrazione di batteria che secondo te è perfettamente rispondente, quella che è meglio rispondente al suono della batteria, che tu evidentemente ben conosci? Allora, potrei dirti che mi cogli impreparato, ma in effetti qualche idea, già ce l'ho, me la sono fatta. Dunque, intanto... È il bello di questa intervista, cogliere impreparato l'intervista. Posso parlare di una che è notoriamente famosa per i test del suono della batteria e che invece, secondo me, non va bene, posso dirlo. Certo, puoi dirlo. È la famosa Sheffield. Sheffield, grazie. Perché è molto spettacolare, bellissimo, ti fa suonare l'impianto che fa paura, ma quei tamburi sono triggerati, c'è qualcosa che non è un suono naturale. Un tamburo non suona con quegli ecchi infiniti, con quel suono grosso. Faccio un esempio concreto, per fare qualcosa di un po' diverso dalle solite chiacchierate. Non so se qualcuno di voi ha mai ascoltato quel concerto dei Poo. Adesso qualcuno in Orri dirà. A me è capitato due o tre volte, tra cui l'ultimo del Cinquantenale, che l'ho fatto poi come giornalista, i loro ultimi concerti. Ogni volta che il povero Dorazio, che tra l'altro non c'è più, dava un colpo su un tom della batteria, sembrava che venisse giù il mondo. Sembrava una gran cassa d'orchestra di musica classica. Il suono del tom è leggerino, è una pelle di plastica, una pelle finta, che ha un suono che poi ovviamente varia secondo le dimensioni del tamburo, ma sono piccoli, perciò deve avere un suono piccolo. Perché quando sentiamo un tom che fa pum, non è normale. Vuol dire che hanno lavorato l'equalizzazione, hanno lavorato i riverberi, i diechi, eccetera, e hanno lavorato anche sull'attacco della bacchetta, che non si sente neanche più. Quindi questo non va bene. C'è un disco molto buono, che non è facile trovare in giro, che si chiama Triplicated. Triplicated del gruppo, sono tre tedeschi, che suonano un jazz che francamente a me non piace, è quel jazz molto cool, molto moderno, però c'è un suono di batteria che secondo me, tra quelli che ho ascoltato, io evidentemente non posso, sono depositario dello scibile umano, però tra tutti quelli che ho è quello che suona meglio. È sponsorizzato tra l'altro anche da MBL, io ce l'ho per quello perché mi è stato regalato il suo tempo da qualche responsabile di MBL. Triplicated del gruppo, Appearance, si chiama il disco. Credo che si possa trovare forse online qualche esemplare, non è più stampato da tempo. E questo è un disco che io, se devo ascoltare un riferimento di batteria, uso. Poi io non sono un tipo tanto da riferimenti, nel senso che preferisco cose più normali, ma che al mio orecchio suonino naturali. Certo, infatti questo era il senso della domanda, fatta appunto ad un batterista che, mi confermi, continui regolarmente a praticare. Sì, io sono ancora in attività, non sono mai stato un professionista, per me è un hobby, adesso ho trovato un nuovo gruppo con il quale mi diverto da matti. Genere? Ecco, genere, in teoria uno dice potresti vergognarti, invece no perché è quello che cerco da tempo. E non trovavo, perché ho suonato bluso, ho suonato rock, un po' di tutto. Io cercavo un gruppo per poter fare qualche serata, non per i soldi, per divertirsi, tanto non ti paga più nessuno personale, per divertirsi. E ho trovato un gruppo che fa i complessi, i musiche italiane, anni 60-70. Era quello che io cercavo. Numero uno perché sono pigro, quindi non devo studiare tanto perché i brani li conosco già. Certo. E numero due perché mi piace suonare e vedere la gente che canta e che segue quello, che conosce quello che sto suonando. Che partecipa. Io voglio un pubblico che partecipi. Non è un problema di denaro, è un problema di quelli che dopo che hanno finito magari di mangiare in un locale, si comincia a suonare, quelli magari si alzano, ballano, si divertono. Ecco. E quindi mi sto divertendo un sacco con questo gruppo qui e penso che abbiamo cominciato da poco, ma per la fine dell'anno comincieremo ad uscire perché siamo già abbastanza avanti con le prove. Hai ancora una volta fra le righe, ma io scavo fra le righe per trovare la domanda successiva, messo il dito su una, non piccola secondo me, ma grande piaga del momento. Cioè tu hai parlato del locale, dove la gente mangia, dove tu suoni, e poi la gente partecipa, canta. Tutte cose che oggi sembrano viste un po' come il male supremo, visto quello che da un paio d'anni affligge la situazione con cui bisogna inevitabilmente confrontarsi, senza andare a fare troppi discorsi dietrologici, eccetera. Ma noi che viviamo un po' di queste cose, io ci vivo, tu ci vivi perché è quello che ti fa essere vivo, ti fa sentir vivo. Come la vedi? Hai uno sguardo ottimista verso il futuro? Sei un po' più cupo? Riesci, sei riuscito con questi accenni di libertà concessa a riprendere un po' questa attività? Ma come tu sai io faccio un imprenditore, per quanto piccolo, per cui se non avessi fiducia nel futuro non potrei fare il più. Dovrei tirare il cartellino. E questo vale anche per me. Esatto, entrare a testa bassa nell'ufficio e uscirmi nella testa bassa quando è finito che è bello vado a casa. Quindi la fiducia nel futuro ce l'ho, ce l'ho per forza, ce l'ho innata da sempre. E' anche per questo che mi piace cambiare, mi invento lavori, aggiungo cose, perché sennò poi mi stanco, mi annoio. Il discorso futuro, sì, ho capito a cosa ti stai riferendo, purtroppo ci vorrebbe la sfera di cristallo che non abbiamo. Io credo che da questa situazione stiamo cominciando a uscirne e ne usciremo. Non voglio dire come, perché poi qualcuno non sarà d'accordo, non ci interessa. Non apriamo polemiche in uno spazio che non è pensato per questo. Esatto, è giusto che ognuno abbia la sua idea, siamo in un mondo nel quale almeno le idee devono rimanere libere. E questo è un concetto importante. Se poi non vogliamo entrare nell'anarchia, ma almeno le idee lasciamo liberi. Ma io sono convinto che ne usciremo, cominciamo già ad uscirne. Al momento dobbiamo usare ancora delle precauzioni, perché volenti o non volenti ci sono imposte, e quindi dobbiamo sottostare alcune regole, alcune norme. Però ho anche una dimostrazione di questa mia fiducia, che è la fiera che sto organizzando. E anticipi l'ultima domanda che ti volevo fare. Allora affrontiamo questa cosa. Sì, perché sono collegate strettamente. Fra le mille attività adesso ti sei anche inventato questa cosa di organizzatore di fiere. Allora adesso le stiamo chiamando fiere, tanto per capirci, per brevità. Però in effetti non è una fiera, perché le fiere ci sono già. Non c'era bisogno che arrivassi io, ripeto, con la collaborazione di Maurizio Pol, che è un importatore conosciuto da 50 anni nel settore, con il quale stiamo collaborando, stiamo facendo questa cosa insieme. L'idea era di fare una cosa molto diversa dalla fiera. Doveva essere inizialmente, quando è stata pensata, diciamo tre anni fa, una cosa che fosse più simile a un top audio, per cui ci fosse anche l'audio video. Poi questa situazione qui ha stroncato tutto, gli assembramenti non si possono fare, le grandi aziende hanno depennato qualsiasi possibilità di fare fiere e per il momento non stanno ancora pensando neanche per il futuro. Abbiamo interpretato... Finché non si chiarisce, esatto. Esatto. Grosse aziende del settore audio video multinazionali, non parliamo... e quindi per il momento questa cosa vi deve essere per forza scartata. Grazie anche ad un'imbeccata, devo dire, dell'ingegner Rossi di Norma, che è uno che anche lui quando pensa le cose le pensa bene, si è pensato di fare una cosa che fosse più un insieme di dimostrazioni, tipo quelle che si fanno in un negozio, però in un negozio sono limitate un certo numero di clienti che vengono dalla zona, magari sono già quelli che conoscono il negozio, riunire più demo di questo genere in un'unica postazione in modo di attirare gente nuova, facce diverse e anche da altre parti d'Italia. E quindi è partita questa Eva Expo Milano che si terrà i giorni 2-3 ottobre di quest'anno, di 2021, alla quale tu benevolmente parteciperai promovendo i tuoi dischi. E io sarò ospite tuo. Tu sarai ospite mio e sarà un piacere averti in sala da me. E quindi stiamo ancora raccogliendo adesioni da parte degli espositori, siamo sicuri che almeno una quindicina di sale ci saranno. Stiamo lavorando su questo. Ovviamente ci saranno delle regole le quali tutti dobbiamo sottostare, perché il Green Pass è obbligatorio, quindi magari organizzeremo, per chi non voglia vaccinarsi e non si è già vaccinato, organizzeremo dei tamponi in loco. Adesso stiamo ancora studiando come fare. Poi sappiamo che... Questa sarebbe una grande iniziativa, se posso permettermi, perché così veramente si supera questa soglia psicologica di associare il Green Pass solo al vaccino, mentre sappiamo che ha altre due categorie. Il tampone vale 48 ore, per cui se uno si fa il tampone il venerdì fino alla domenica al suo Green Pass. Il mio consiglio è che se tu... È una genialata questa, se tu riesci a organizzare una postazione... È solo un discorso di costi, se riesco a stare... Ma magari se trovi un accordo con l'ASL locale... Beh, con l'ASL è più difficile perché sai che hanno una burocrazia tremenda. Devo trovare un accordo, un forfait con una società privata, un'azienda privata che possa fare questo lavoro qui. Si può fare, vediamo quanto sarà il discorso di costi perché non ci siamo ancora mossi in merito, anche perché qui le cose cambiano sempre da un giorno all'altro, e quindi è inutile programmarle con troppo anticipo. Tanto quando sarà il momento, un po' di giorni prima vedremo, come il discorso prenotazioni. Allora, facciamo un passo indietro perché non l'ho ancora detto. Le visite saranno su prenotazione esclusiva. Quindi ci sarà un software che ho già acquistato, che funziona anche se non è ancora ovviamente pubblico, attraverso il quale tutti i visitatori vedranno l'elenco degli espositori, quanti posti sono ancora rimasti disponibili in saletta, funzionano tutto in automatico e potranno scegliere i vari orari delle dimostrazioni. Online, quindi? Online. Stiamo parlando di una cosa online. Chi vuole venirci a trovare può prenotare prima. Noi esporremo dalle 10 del mattino alle 10 di sera, in modo di poter diluire anche il pubblico il più possibile. Quindi chi vuole venire sa già che si è stato tutta la giornata, può prenotare un tot di salette che ogni saletta ha delle dimostrazioni che potranno andare dai 30 ai 45 minuti. Tra una dimostrazione e l'altra lasciamo 15 minuti per aglieggiare i locali. Le sedie saranno disposte in saletta a un metro l'una dall'altra, per cui manterremo obbligatoriamente le regole, le ben note regole. Purtroppo, e mi dispiace, non ci potranno essere i banchi di vendita di niente, né di esposizione, proprio per evitare anche lì gli assembramenti. E quindi funzionerà così. Chi prenota saprà già prima di arrivare quali sono gli orari di visita delle salette, non avrà il rischio di trovare la saletta piena, di trovarla chiusa perché quel povero Cristo che è lì a dimostrare è andato a mangiare, magari perché c'era fame e doveva andare in bagno. Quindi si sa già che ora si enterà e che ora si uscirà da ogni dimostrazione. In ogni caso, chi arriverà senza prenotazione o chi vorrà magari riascoltare un'altra sala, noi avremo una persona di reception col computer davanti che potrà riconfermare immediatamente eventuali ulteriori prenotazioni. Siamo sicuri che non solo questa formula qua funzionerà ma che probabilmente potrà essere adottata anche in futuro perché evita tanti problemi sia agli espositori Allora mettiamoci dal punto di vista degli espositori, dal tuo in questo caso quando devi presentare tu lavorerai con lo stesso tu di solito fai sempre le dimostrazioni in orari fissi quindi per te questo discorso non si pone ma per gli altri che cominciano a dimostrare l'impianto ad un certo numero di persone che sono in saletta nel frattempo chi esce chi entra nuovo c'è appunto la rotazione e quindi chi sta parlando non sa più se chi è dentro ha ascoltato delle cose che stava dicendo non le ha ascoltate deve ricominciare da capo allora finisce che poi uno fa il dj mette i dischi la gente entra esce e more lì questa è una cosa se mi permetti di sottolineare come molto importante io credo che sia un po' una chimera questa idea di ordine che tu stai proponendo però certamente per chi ha qualcosa da dire che sia il lincetto di turno che parla dei suoi dischi piuttosto che l'enrico rossi che parla dei suoi amplificatori evidentemente si organizza una proposta un percorso narrativo esatto ed è estremamente frustrante sapere che sia davanti delle persone che percepiranno solo un frammento di questo discorso perché o arrivano tardi o se ne vanno prima allora io capisco mi metto dalla parte del fruitore che dice no ma io voglio vedere più cose poi dopo un po' capisco che non mi interessa e me ne vado e questo ci sta e questo ovviamente ci sta però almeno avere cioè il fatto che qualcuno abbandoni è come un concerto se un concerto non ti piace tu sei libero di andartene questo non lo possiamo evitare ecco non si può evitare ma fa parte del gioco certo ma invece il fatto ad esempio di iniziare ad un orario preciso e tu cominci e sai che hai un tuo pubblico e questo pubblico potrà diminuire ma non potrà arrivare uno a metà per cui dice ecco a questo che si è perso la prima parte cosa gliela riassumo no esattamente e allora affrontiamo questa dimostrazione con lo stile del concerto perché tu arrivi stai lì se proprio non ti piace dopo un po' te ne vai è lecito però non pensi di arrivare a concerto iniziato in Inghilterra nel West End nelle salle del concerto come inizia il concerto tu non entri più anche qui con la classica nei teatri cerchiamo di dare questo modus pensanti che non è un obbligo di dire adesso vieni sei costretto a star là no cioè se tu dopo 5 minuti dici a me che me ne frega vai via è tuo diritto però almeno avere un approccio di base da dire è uno spettacolo ecco mettiamo queste nostre dimostrazioni sono uno spettacolo per quello che sto dicendo che sono delle idee che potrà funzionare anche in futuro indipendentemente da restrizioni o meno in questo momento non è quello il problema potrà funzionare in futuro io tra l'altro sto progettando questa cosa qua non solo da organizzatore ma anche da espositore io avrò due sale e compiro un audio una delle quali sarà gestita da me dove sarai ospite tu una delle quali sarà gestita a Maurizio Pol perché le facciamo insieme con apparecchi comuni e quindi io mi metto prima di tutto nei panni dell'espositore anche perché io poi devo vendere i miei spazi agli espositori e poi dopo mi metto anche ovviamente alle parti del pubblico ma tu come espositore cominci illustrando il tuo impianto fai ascoltare e poi se tu hai 45 minuti per esempio di dimostrazione per 30 minuti fa ascoltare la musica gli altri 15 poi chiederà qualcuno se vuole mettere sui dischi se ci sono domande poi quello che esce perché vuole vedere tutto in questo caso non ci sarà perché se tu hai prenotato l'evento dopo è inutile che tu esca prima tanto non puoi andare da nessuna parte quindi a quel punto stai lì e te lo senti oppure vai e ti fai un giro se ti dà fastidio ti vai a bere un caffè che va sempre bene e poi soprattutto eviteremo un problema scusa la polemica dell'audiofilo che arriva apre la porta guarda dentro storce il naso esce e il giorno dopo scrive sul forum che suonavano schifo questo è intollerabile francamente quindi almeno tu puoi anche dire che non ti piaceva il suono ma sei stato lì mezz'ora ha ragione veduta ha ragione veduta esatto nessuno vuole imporre di piacere a tutti ci mancherebbe altro quindi questa è la prima edizione di questo tipo di fiera ed è di manifestazione diciamo ed è organizzata in un periodo decisamente non felice però io sono sicuro che andrà bene e se andrà bene la ripeteremo con la stessa formula evidentemente ingrandendola aumentando il numero di dispositivi certo a proposito l'ingresso è gratuito l'ingresso è gratuito e poi il parcheggio anche coperto dell'hotel abbiamo una convenzione che costerà solo 5 euro non abbiamo detto dove esattamente è a Rho è all'hotel Expo Fiera Milano che è a Rho è a 500 metri dalla fermata metropolitana ci sarà una navetta ma si può venirci anche a piedi ed è a 200 metri riuscita dalla tangenziale per cui è comodissimo il parcheggio ripeto 5 euro in convenzione non c'è niente intorno per cui se uno si vuole fermare a mezzogiorno lì c'è il bar abbiamo fatto anche una convenzione 10 euro panino e bibita per cui nessuno sarà sarà vessato diciamo da prezzi fuori dal mondo non ci perdiamo su queste sciocchezze siamo veramente arrivati alla fine di questo nostro incontro che come prevedevo è andato lungo ma ci sta tutto mi dispiace no credo che insomma chi ci guarda avrà potuto restare interessato per i tanti argomenti che abbiamo affrontato quindi io ti ringrazio di questa partecipazione al bar di Valutluna assoluto io che ringrazio te ovviamente e niente quindi noi ci diamo appuntamento io e te sicuramente a Milano e poi chi ci guarda magari aspettiamo anche chi ci guarda esatto allora arrivederci a presto e grazie ancora grazie a tutti 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 grazie a tutti